Buonasera a tutti sono Sabrina Bar Lady del Bar Ceminé presso il Saint Vincent Resort in Casinò. Oggi vi proporrò un mojito alternativo per aliettare le vostre serate estive. Per la preparazione del nostro drink sono necessari lime, zucchero bianco, menta fresca, rum zakat, sciroppo allo zenzero e ginger ale. Passiamo ora alla preparazione del nostro drink. Abbiamo anticipatamente raffreddato il nostro tumbler, togliamo via il ghiaccio. Mettiamo quattro cubetti di lime in proporzione 2 cl, un cucchiaino di zucchero bianco semolato proporzione 1 cl e quattro foglie di menta fresca. Con l'aiuto di un mudler andremo a pestare bene il tutto. Allora, ora aggiungiamo il nostro ghiaccio pilè al nostro drink, rum scuro, le quantità ve le ho già accennate prima, sciroppo allo zenzero e top di ginger ale. Con l'aiuto di un bar spoon andremo ad amalgamare il tutto. Come decorazione useremo un rametto di menta fresca e due cannucce. Auguro buona degustazione a tutti! Grazie a tutti!